Vai! Allora, cari amici, siamo a Desenzano del Garda con questo bellissimo lago. Noi ci siamo imbattuti assieme a un gruppo di pubblico con un esemplare di Homo habilis impegnato in azioni particolari. Potete vedere come qui ci sia del liquido non seminale che abbiamo visto precedentemente invece. Egli si è addormentato in seguito a iniezioni profonde via orale di Alcus Mibelonis. L'Alcus Mibelonis, dovete sapere, era già noto nella preistoria. La preistoria era molto importante per l'alcol. Infatti noi abbiamo la villa dove c'è stato uno spettacolo anche di teatro dove c'è l'aratro più antico del mondo e l'Alcus Mibelonis. Come si difende dall'accusa che siano state usate supposte di alcol? Beh, le supposte di alcol vengono da un periodo in seguito durante il periodo romano dove c'erano le meretrici e noto che qui è tutto bianco e quindi in teoria non dovrebbe essere segnante. Inoltre sono uscite per via... Signori e signori, siamo in diretta!